E' un protocollo molto importante al quale la città di Napoli ha dato un grande contributo su alcuni punti su cui tenevamo tantissimo. Il primo è il superamento dei centri di accoglienza straordinari, quindi mai più risorse pubbliche per allocare delle persone in dei depositi e poi dimenticarsene, invece sì ai progetti di integrazione, di solidarietà e di costruire comunità in cui persone differenti che vengono da esperienze diverse e dai mondi diversi convivono negli stessi diritti e negli stessi doveri e quindi lavori socialmente utili e poi un altro aspetto che nell'articolo che riguarda la città di Napoli, perché noi abbiamo una parte peculiare in questo protocollo come città di Napoli, è quello di risorse pubbliche destinate ad immobili abbandonati da ristrutturare per l'emergenza abitativa. L'emergenza abitativa è per i napoletani, è per gli italiani ovviamente, per i rifugiati, per chiunque abbia bisogno. Insomma con il contributo della città di Napoli si pone fine a qualsiasi rischio di conflitto tra sofferenze e quindi una città in cui anche gli stranieri contribuiscono alla sicurezza, quindi tutti con gli stessi diritti e con gli stessi doveri, un passo in avanti e il progetto Napoli città rifugio trova rifugio in questo protocollo. Quindi da parte nostra siamo soddisfatti, vedere anche tanti sindaci coinvolti, noi abbiamo fatto sempre la nostra parte e adesso siamo protagonisti da un modello diverso e da Napoli parte il superamento dei centri di accoglienza straordinari e di questo siamo molto soddisfatti perché Napoli è culla del diritto e quindi quando si parla di accoglienza non è solo etica, morale, umanità, ma significa anche diritti, significa economia, significa costruire comunità diverse rispetto a quelle di adesso. Sindaco, alcuni speculano su questo protocollo, dicono che si toglie lavoro ai giovani campani, cosa possiamo dire? Ma è assolutamente falso, anzi è esattamente il contrario, sempre di più nel riscatto della cultura partecipano tutte le persone che convivono nella nostra città. Vedete Napoli in questi anni si è riscattata senza soldi con un grande capitale umano e di quel capitale umano fanno parte tutte le persone che abitano nella nostra città, ovviamente in primo luogo i napoletani che ringrazio, ma tutti quelli che decidono di vivere in questa città, ovviamente condividendone non solo i diritti ma anche i doveri, sono i benvenuti e soprattutto con questo protocollo si pone fine ad esempio per capirci a quello che è stato Piazza Garibaldi in questi anni, c'è un luogo in cui può diventare una bomba sociale, dove si mettono persone, si pagano gli alberghi e vengono dimenticate. Adesso tutto questo viene superato, quindi credo che in questo modo noi contribuiamo anche sempre di più alla sicurezza e la partecipazione anche delle sovrintendenze, la reggia di Caserta, Pompei, tutto questo significa che con la cultura si fa economia e tutto questo significa che i rifugiati e i migranti possono contribuire anche a una ricchezza economica ancora più forte dei nostri territori, quindi non viene sottratto lavoro a nessuno, anzi si rafforzano le opportunità di lavoro per tutti. Il Ministro ha fatto anche riferimento però agli accordi con la Libia, questo è un punto un po' controverso. Sì, questo è un punto controverso, è la posizione del Governo nazionale, il protocollo che abbiamo firmato è un'altra cosa, la posizione della città di Napoli e chi sta per mare debba essere sempre accolto, debba essere sempre soccorso, sapete le nostre posizioni sono state vicine a tutte le associazioni che in questi anni, grazie a loro, si sono salvate tantissime vite umane, quando una persona si trova su un barcone, in un abbarco per mare va sempre soccorso e questo ha la priorità rispetto a qualsiasi altro tipo di accordo. Poi se vogliamo andare a parlare delle cause delle migrazioni possiamo parlarne all'infinito e sapete qual è la mia posizione, da dove deriva questa tragedia umanitaria e credo che in questo momento le palgine più belle del diritto le stanno scrivendo le città. I Governi nazionali hanno tante responsabilità per quello che è accaduto finora, anche i Governi europei e non è a caso che la controtendenza di una certa narrazione viene dai sindaci, viene dai territori, viene proprio da chi sta in frontiera, che a Napoli come a Salerno, a Bari come a Catania, a Palermo come a Lampedusa, ha accolto anche quando Governi nazionali ed europei erano indifferenti, quindi su questo la mia posizione è che le persone in difficoltà vanno sempre accolte e fare un conflitto senza alcuna timidezza nei confronti dei trafficanti di esseri umani. Nei trafficanti di esseri umani non ci sono solo organizzazioni criminali, ma ci sono anche esponenti di istituzioni, dei governi e ve lo dico per certo, me ne sono occupato anche da Pubblico Ministero, quindi la Libia ha una grande responsabilità in questi anni e quindi è opportuno che ci sia anche lì un lavoro completamente diverso, che però non possono scrivere i sindaci ma che devono scrivere i governi.